Non fate l'errore di usare la lavastoviglie per lavare bicchiere, piatti, riposate, insomma, le stoviglie. La lavastoviglie la va usata esclusivamente per cocio e la miltecca. Ma oggigiorno, ma chi è che fa ancora la carne, diciamo, sui carbone o sulla griglia? Ci vuole la lavastoviglie per far da mangiare, ragazzi. Ma è normale, ma tutti l'usano per far da mangiare la lavastoviglie. Ma chi è che ci lava ancora bicchieri una volta? Allora, prendete un sacco, una busta di plastica per sottovoto e mi raccomando, mettete questa bistecca sottovoto, pressatela bene con la mano, vedete? Si va a pressare con queste mani nere sudice, si va a pressare e tra a sigillare il tutto. Vedete che spettacolo, ragazzi? Questa è alta cucina, eh? Oh, ecco, vediamo la nostra lavastoviglie. La lavastoviglie, vedete, roventa, per chi non sa, contenta. Allora, tra e si mette, si posiziona nel cestello arto. Ne potete mettere 3-4 alla volta, insomma, ce ne entra perché poi la cosa buona, che nel forno c'entra meno roba. Mentre sulla lavastoviglie c'entra più roba, tu puoi fare delle scene, diciamo, più abbondanti. Si va a impostare nel nostro programma automatico e sulla lavastoviglie c'è sempre il programma fiatti, bistecca, diciamo, bicchieri. Si va a mettere una pasticchina di olio, sale e pepe, il famoso brillantante, i brillant, e si va a daglieranda, gli si dà in via. Poi, comunque, è una questione di gusti, perché, per esempio, io ci metto nella bistecca, io personalmente ci metto Mastrolindo, mi garba di più come il sapore, c'è chi ci mette sale e pepe, e c'è chi ci mette i cuciglianetti, lo pegamento. Poi, ricordiamo, la vera bistecca, la Fiorentina è nata nel 1400, appunto, a Firenze, da Medici, e veniva fatta, appunto, in questa tecnica di cottura, dentro la lavastoviglie. Poi dopo è stato inventato il carbonio, il fuoco, ma che sono cose aggiunte dopo, sbagliate, sbagliate. La vera bistecca nasce dentro la lavastoviglie, e via, diciamolo, diciamolo, è la verità. Poi si va, diciamo, a dargli l'ultima passata, a un tocco di burro sopra, gli è la sua morte, classico burro fiorentino. Le patatine fritte, la patatina fritta, per dire, ah, vedete, ragazzi, che cottura, che cottura perfetta, hai sangue rosa viola, violastra, non fa una gocciola di sangue, gli è perfetta. Bistecca alla Fiorentina, direi quella vera.